E' la tua arte che ti ha portato qui tu sei famoso in tutto il mondo ma so che quando eri piccolino c'era una portiera di casa che ti diceva un giorno andrei a Sanremo, è vero? Sì, ma hai fregato. Perché ti ho fregato subito? C'è io che ci andrebbe quella signora bene che traduce tutti quando parlo, però già sono emozionato e quindi parlo peggio del cuore. Allora, devo fare una cosa che mi fa stare bene. Io quando inizio un concerto dico ciao, che è bello, è una parola bellissima. E questa signora, quando ero ragazzina, tutti i giorni, io andavo al conservatorio e lei mi diceva Aspetta di Venezia Sanremo. E io dicevo signora, no, io non cazzo, no, 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 chi lo sa, magari è là che dice L'avevo detto, l'avevo detto, l'avevo detto. Senti, il mondo ha bisogno della musica, ha bisogno di musica. No, ma c'è perché la musica siamo noi. La musica è una fortuna che condividiamo, che ci è arrivata e ce la cerchiamo. Noi mettiamo le mani, ma ci insegna la cosa più importante che esista. Ascoltare. È vero, è fondamentale. Domani sarà la Royal Opera House di Londra, poi debutterà il nuovo spettacolo Royal Ballet con le sue musiche. Sabato sarai a Vilnius. Ma dove trovi tutta questa energia? La musica è una vera magia. Infatti sapete che non a caso i direttori hanno la bacchetta, come... Allora, la musica mi ha dato il dono dell'ubiquità. Perché la musica che ho scritto è a Londra e la fa un bravo direttore con il balletto più importante del mondo insieme alla Scala. Perché siamo italiani. E io vado a Vilnius. Quindi c'è pure il dono dell'ubiquità. La musica è una fortuna. E soprattutto, come diceva il grande maestro Claudio Abado, è la nostra vera terapia. Da pochi mesi c'è il tuo primo cd, che è la dodicesima stanza. Perché secondo un'antica teoria, dodici sono le stanze della nostra vita. Sì. A me è piaciuto. Io porto sempre un po' di acqua al mio muro. Chiaro, ovviamente. Anche a me è piaciuto. Però, mi sommetto, se noi uomini siamo buchi, perché tendiamo a dare per scontaggio le cose belle. Ci sono, sono belle, sono le... E le stanze sono una cosa bella. L'abbiamo inventata noi. Per proteggere. Gli diamo nomi. Allora, io che ogni tanto, ma ce l'abbiamo tutti, eh, una stanza che non ci piace, in cui entriamo. Perché le stanze sono dette di cura cosa. Sì, perché il nome originale della canzone era stanza. I trovatori non facevano canzoni, ma stanze. Perché abbiamo fatto anche il movimento Quark. E allora, a me piace curiosare ed esplorare quello che a volte diamo per scontato. E ho trovato questa cosa bellissima. Io ogni tanto, succede a tanti che hanno, ma a tutti, succede dentro o fuori. E ho trovato una stanza che è buia, è cruda, è piccola. E lì ho incontrato questa teoria che dice che noi non siamo una linea, ma siamo dodici stanze. Nell'ultima, che non è ultima. Perché si cambia. Ricordiamo la prima. Perché sapete, quando nasciamo, non la possiamo ricordare. Perché non vediamo appena nata, ma lì la ricordiamo. E siamo pronti a ricominciare. E quindi siamo liberi. Quando è arrivato dietro le quinte mi ha detto, tu sei un pazzo avermi invitato. Sono felice di essere un pazzo. Ma sono proprio felice. Ora eseguirai Following of the Bird. Che ha un significato speciale, particolare. Sì. Vedete, se mi piace giocare, vi faccio una piccola parte di questo brano per me importante. Che è quello con cui apro tutti i miei concerti. Perché? Perché grazie a uno, io sono un disastro con i titoli. Quindi ho perso il campo e li faccio in inglese che ho subito più fighetto. Ah, ecco, già più, eh? Sì. Sì, perché seguendo un uccellino. Non è un granché, certo. Invece Following of the Bird è più bello. E allora proprio seguendo quel uccellino che volava mi sono perso e mi sono messo a ragionare sull'importanza di perdersi per imparare a seguire. Noi diciamo perdere è brutto. No, nessuno perde. Ma a volte perdere i pregiudizi, perdere le paure, perdere il dolore, ci avvicina e ci fa seguire. Ma adesso provo a suonare con la città. Prego, maestro. Following of the Bird, il maestro Ezio Bosso. Applausi Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.